Aronne, sento d'ordi bruciato! Aronne, Aronne, sento d'ordi bruciato! Sì, ma sabato mattina devi svegliarmi o... Ma ecco, subito! Eh, ma... Come ne vedi se dormi la serina, ne sei insieme? Perché viene anche lui? Dai! No, gli porta, gli porta! Sono dell'aereo! Aspetta! No! Stiamo là dopo 3 metri! Ma occhiali... Quest'èło che due compi? Perchò, perchò. Dai, Irena, di testa! Ho preso il pallone! Grazie. Grazie a tutti.